e quindi 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 e quando 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 reaction mon amour quindi sai che vorrei a vedere io ora no vorrei a vedere il pesadillo facciamo così oh mio dio pesadilla igodi cari igodi cari che tal in il centro però sol le frena attacchi attacchi al centro attacchi 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 cari si muove molto bene nulla cari è un giocatore molto recente di splatoon ma è un giocatore molto rapido ha aprenduto abbastanza tecniche di diversi giocatori della comunità sì non mi sembra ancora che è un giocatore che è una nuova giocatore nel senso che gioca molto bene gioca e ora è l'hombre che parla non sono solo io e via a io le guste starei nel centro sì si pone insieme arrivo così controlla il centro lo mantiene di suo colore uuuuuh mira come lo va buscando eh grande e sol con la sua splatta tannica da ho visto come si muoveva la cari sempre diretti al centro eh ripeto è un giocatore il cocco ha detto la sua ha detto wow e va oh mio dio oh mio dio ecco 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 che ti piace la differenza perché è tutto bene ma il recupero non sale bene quando si incontra stare cerca necessita di uno sprint però molto buon partito buon partito buon partito